Sono passati 40 anni da quel giorno, io ne avevo 20, Golda Meir è una delle figure politiche che più hanno impressionato la mia giovinezza, una delle pochissime donne che si affacciavano da protagonista sulla scena mondiale, è stata la terza a guidare un governo sulla scena mondiale, una donna forte, apparentemente sgraziata, con una grazia infinita nel saper usare lo strumento della politica per il bene del Paese che rappresentava, una donna forte, volitiva, con ideali socialisti applicati al caso specifico e speciale dello Stato di Israele, protagonista della costruzione di quella vicenda, protagonista infine da Primo Ministro, dopo essere stata Ministro del Lavoro, lei che era stata a lungo sindacalista e Ministra degli Esteri, della guerra del Kippur, la guerra che Israele rischiò di perdere in quegli anni 70, nelle quali stava cambiando tanta parte della nostra storia con una lentezza inesorabile e una violenza incalzante. Golda Meir non è stata una donna di pace, è stata una donna dentro la guerra e la frase più famosa, quella che viene ricordata da tutti, è una frase apparentemente terribile, essa dice la pace verrà in questa terra quando i nostri avversari cominceranno ad amare più i loro figli di quanto odino noi, ha dentro un cuore così amaro che si fa fatica a condividerlo, io ne preferisco un'altra di gran lunga, è una sorta di profezia, me la leggo, la guerra è una stupidaggine immensa, io sono convinta che un giorno tutte le guerre finiranno, sono convinta che un giorno i bambini a scuola studieranno la storia degli uomini che facevano la guerra come si studia un'assurdità, se ne stupiranno, se ne scandalizzeranno, come oggi si scandalizzano del cannibalismo, anche il cannibalismo è stato accettato per lungo tempo come una cosa normale, eppure oggi almeno fisicamente non si pratica più. è una fase che consegnò nel 72 Oriana Fallaci, Golda Meir, una donna di guerra ma che aveva un'idea di pace.